il comparto orafo in campagna è stato particolarmente colpito dal lockdown perché praticamente i commercianti sono stati costretti alla chiusura si è interrotta l'intera filiera questo significa gravi difficoltà mancanza di incassi per natale c'è bisogno come detto di interventi seri perché praticamente si rischia addirittura la scomparsa di un settore rinomato in tutto il mondo per il resto solo chiacchiere e propaganda